E' intervenuto anche il Presidente del Corecom Piemonte, Alessandro De Cillis, alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario presieduta dal Presidente della Corte d'Appello, Arturo Soprano. Nel corso del suo intervento ha sottolineato l'importante funzione svolta dal Comitato con l'Istituto della Conciliazione, strumento obbligatorio e gratuito di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni, che da un lato offre un servizio utile al cittadino e dall'altro assorbe e annulla un costo che diversamente peserebbe sulle spalle dei tribunali. Alla cerimonia, tra le numerose autorità civili, militari e religiose, hanno partecipato il Presidente del Consiglio regionale, Maur Laus, con i Vice Presidenti Daniela Ruffino e Nino Boeti e il Presidente della Regione, Sergio Chiamparino.